Musica Comincia una nuova settimana, dunque previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 24 dicembre ad Avellino cili molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. In temporanea intensificazione pomeridiana i venti saranno deboli o moderati. A Napoli cieli nuvolosi o coperti con deboli piogge nell'arco della giornata. I venti saranno moderati il mare mosso. A Salerno cieli molto nuvolosi con piogge per l'intera giornata. I venti saranno deboli o moderati il mare mosso. A Benevento cieli coperti per tutto l'arco della giornata con deboli piogge dal pomeriggio. I venti saranno deboli o moderati. A Caserta cieli molto nuvolosi con piogge per l'arco della giornata. I venti saranno deboli. Le temperature ad Avellino la temperatura massima sarà di 13 gradi. La minima potrà raggiungere anche i 10 gradi. A Napoli invece la temperatura massima sarà di 16 gradi. 13 gradi la temperatura minima. Stessa temperatura anche a Salerno dunque massima 16 gradi. 13 gradi la minima. A Benevento 13 gradi la temperatura massima, 9 gradi la temperatura minima. Mentre a Caserta la temperatura massima raggiungerà 15 gradi. La temperatura minima 9 gradi. È tutto anche per oggi. Buon Natale a tutti. Grazie. 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 Grazie.